Per il riconoscimento dello status di rifugiato, non basse il timore della ricorrente di origini nigeriane che tornando in patria potrebbe essere uccisa dal fratellastro, il quale, dopo la morte del padre, si era impossessata dell'intero patrimonio del defunto e l'aveva maltrattata e picchiata, sicché la stessa non avrebbe altro luogo dove vivere a causa della crisi economica in Nigeria. Tuttavia, la sussistenza di un conflitto armato interno, il pericolo di violenze indiscriminate ai residenti, la considerazione della condizione femminile in quelle aree giustificano il riconoscimento a favore della ricorrente della protezione sussidiaria.